E andiamo avanti, protagonista un'altra ragazza, lei è l'esibizione numero 16, vi ricordo che siamo a Canzone per te, protagonista la musica di Sanremo e dunque la musica italiana e anche lei ha scelto una bellissima canzone, ma prima di sentire, anzi prima di emozionarci con la musica conosciamo la partecipante numero 16. Mi chiamo Miriam Caruso, ho 20 anni e sono studentessa all'Accademia di Belle Arti, la mia passione è il canto e amo tutto ciò che sia la musica. Bene, ci ricordiamo il numero 16 è Miriam, ma adesso naturalmente dobbiamo conoscere anche la canzone, sentirla cantare, la canzone è sempre di Elisa, una bellissima canzone che spero emozionerà voi a casa, che dovete stare attenti perché siete voi i protagonisti come pubblico che potete votare queste bravissime ragazze. Di conseguenza è il momento che Miriam lanci il suo appello, prego. Spero di potervi emozionare e che la mia voce arrivi fino a voi. E' la stessa da sempre, sempre, quasi fino a diventare niente, solo amore se amore, questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce nell'anima che nessuno può comprendere all'infuori di te. All'infuori di te. Scrivo da una camera, nella semiscurità, da qui posso commuovermi di nascosto al mondo. al quale ormai mi sento estranea nel profondo, lì in mezzo è il suo contrario, sono luoghi del mio cuore e sei tu ora quel mare da cui mi lascio trasportare. sempre, 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 quasi fino a diventare niente, solo amore se amore, questo buio a cui non ci si abitua mai, questa luce nell'anima che ancora splende sempre e sempre, fino a farmi diventare niente, e fino a farmi diventare niente. e fino a farmi diventare niente. Questa luce nell'anima che nessuno può comprendere all'infuori, all'infuori di te. 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 all'infuori di te.